Buongiorno e benvenuti a questa è la segna stampa di oggi, stasera vi ricordo che stasera è mercoledì e ci avremo la puntata di Matrix alle 11.30, alle 23.30 questa sera aspettate che metto un po' meglio questo microfono e poi come sempre Radio 105 oggi la notizia, ci sono varie notizie sui giornali, qua oggi sto litigando con questo microfono, mettiamola così e ci sono varie notizie sui giornali ma come sempre mi divertono pure speculature beh fantastica sulla questione Ikea che ormai forse avete visto nei siti oggi ma bastava appunto leggere i siti di ieri cosa succede? In un grande magazzino dell'Ikea viene licenziata in tronco una dipendente con un figlio disabile e l'altro figlio di 10 anni con due figli piccoli che era lì che lavorava da 17 anni quindi questo dà il senso che non era proprio appena arrivata e che voleva fare dei turni diversi perché i turni di mattina le impedivano di stare appresso ai loro bambini, una cosa abbastanza tipica per le donne con i figli piccoli da sole e per di più con uno di questi figli disabili, lei inoltre godeva di quella famosa legge 104 di cui come sappiamo molti abusano ma non mi sembra questo il caso da quello che c'è scritto sui giornali e viene licenziata in tronco perché non le danno ascolto e lei decide di andare ai turni di lavoro almeno per due volte come vuole lei, cioè all'orario che stabilisce lei, cioè lei stabilisce un orario diverso da quello che aveva stabilito e penalizzante l'azienda, questa è la storia, ognuno di voi si può fare poi il giudizio, io ho provato peraltro a chiamare l'ufficio stampa di Ikea perché ne volevo parlare e la loro capacità di risposta è pari a zero, quindi simpatia nei confronti di questa vicenda mia è pari a zero. Poi però oggi leggo Gramellini che dice che la politica smettesse di dare notizie false, di cianciare notizie false, questo dice che Gramellini oggi o quelle delle sere accusa la politica di dare notizie false e racconta questa storia, così è raccontata, madre separata, vero, viene licenziata in tronco, vero, per aver chiesto di cambiare turno da Ikea, no, non è vero, non viene licenziata in tronco per aver chiesto, viene licenziata in tronco perché si arroga il diritto di cambiare i turni dopo che l'azienda non le risponde, giusto o sbagliato che sia l'atteggiamento di Ikea, è falsa la notizia che dà Gramellini ed era facile verificarla ieri su tutti i giornali online che non è stata licenziata in tronco perché ha chiesto, ma è stata licenziata in tronco perché ha avuto comportamenti concludenti. Le due cose sono diverse, le capisce anche un bambino di quattro mesi ma siccome lui sta facendo il fenomeno spiegandoci che i politici devono smettere di fake news, lui le fake news non le fa. Poi dopo, voi sapete, non è che abbia una simpatia nei confronti di Renzi per cui mi sveglio la mattina e dico la preghierina a Santo Renzi, dice Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera dove lamenta le fake news dei politici, i lavoratori in difficoltà che il PD di Renzi ha espulso dai suoi pensieri. Ecco, anche questa è ovviamente un'opinione di Gramellini, ma basata su che cosa? Cioè, questa come la considerate voi? La consideriamo una verità biblica perché la scrive la prima pagina del Corriere della Sera un grillino di nuovo arrivo come Gramellini? Vabbè. Andiamo avanti sulle cose serie, che sono la meno 107 mila persone, bambini, nati dal 2008 a oggi. Cioè, abbiamo un calo delle nascite pazzesco. Sul calo delle nascite pazzesco ovviamente tutti quanti direanno perché, come è avvenuto a me in radio, e lo metto in relazioni politiche al bonus bebè di 40 euro che è stato ridotto a 40 euro, ma è stato reso permanente. Cioè, si sostiene che sia lo Stato la colpa per la quale nascono pochi bambini in Italia. Può anche essere che lo Stato sia la colpa. Allora io mi chiedo, e oggi non se lo chiede nessuno, ma quando nascevano tanti bambini lo Stato non faceva nulla e i nostri nonni e le nostre famiglie erano molto più poveri di quelle di oggi e non avevano le pensioni di oggi, e non c'era la pensione sociale di oggi, e c'erano moltissime più malattie di oggi. Eppure nascevano i bambini e i bambini nascono in tutto il mondo, tranne che in Italia. Allora io mi sono chiesto ieri, ma perché mettiamo sempre in relazione la nascita scarsa dei bambini allo Stato ladro, ai privilegi dei politici, a questi stronzi dei politici che anche i bambini fanno leggere in poco? Benissimo, oggi finalmente sul Corriere della Sera, pagina 3, viva il Corriere della Sera, intervista una demografa, ed era l'intera pagina, mi complimento col Corriere della Sera perché ho capito tutto. La demografa dice, la questione culturale di essere madre è uno dei tanti possibili obiettivi di una donna. Oggi una donna, il fatto di diventare madre rappresenta uno dei suoi obiettivi, un tempo era l'unico suo obiettivo. Giusto o sbagliato anche questo che sia? È così. Le donne possono diventare, un tempo potevano soltanto diventare madri, era il loro obiettivo principale. Oggi non lo è, dice la demografa, e dice soltanto in parte, si può spiegare quindi dal calo delle nascite con la crisi economica, ma soltanto in parte. Infatti, dice l'Istat, l'avere il primo figlio, la riduzione del primo figlio è responsabile per il 57% del calo complessivo della fecondità, cioè non nascono i primi figli perché non si è più in grado di farli, non perché c'è una riduzione economica, vuoi fare ma non riesci a farli, ma insomma io penso che questa intervista della demografa oggi dovrebbe essere stampata sui nostri soloni che dicono che è sempre colpa dello Stato il motivo per il quale non nascono figli. E ci saranno delle responsabilità, in Francia danno degli aiuti pazzeschi, cioè ci può essere uno Stato che sapendo che non è più una priorità delle donne diventare madri, le incentivi. Ad avere più figli in uno Stato come l'Italia sarebbe una cosa buona e giusta, ma a questo incentivo è tutto da vedere. Detto questo, andiamo a vedere oggi molto bene, mi sembra, il Corriere della Sera, quanto costano gli annunci dei politici. Il portare la pensione minima, il progetto di Berlusconi a 1000 euro costa 4 miliardi, il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle costa 15 miliardi, i nuovi 80 euro, così come previsti dal PD di Renzi, costano 10 miliardi. In campagna elettorale tutti fanno promesse e incredibilmente la più bassa sembra essere quella di Berlusconi. Incredibilmente perché poi Berlusconi è sempre quello che pensa più in grande, si sarà offeso quando avrà visto oggi il giornale Il Corriere che la sua è la proposta più modesta dal punto di vista del costo per l'opinione per i contribuenti. Stella, fantastico, oggi sul Corriere della Sera, oggi il Corriere è molto piaciuto, vi dico la verità, ricorda come i democristiani e i sindacalisti hanno distrutto il sistema pensionistico dicendo che palle con questi conti, smettetela di fare i ragionieri. Le pensioni di oggi e il costo delle pensioni di oggi sono figlie di scelte assurde fatte ieri, mica sono nate oggi. Il classico esempio è quello dei voucher, che non ha un costo sociale, ma oggi sul Sole 24 Ore in maniera approfondita ci spiegano per quale motivo quella stronzata di referendum fatta dalla CGL e che ha pecoronato il governo per non ricevere questo referendum, ma ha ceduto. Belli governi di Craxi quando decidevano i governi e non i sindacati cosa fare ed erano sindacati con le palle, non la CGL di oggi. Bene, abbiamo abolito i voucher, adesso ci scriverà vai tu a lavorare con i voucher, cari miei, con i voucher. Sapete chi ci andava a lavorare? Gioveni in attesa del primo lavoro, casse integrati, gente che voleva. Certo, c'era anche l'abuso dei voucher, ma moltissimi erano secondi lavori o lavoretti. Oggi sapete cosa succede con questi secondi lavoretti? In nero! Meglio! Posso dirvi in realtà? Meglio! Sono contento che questi ragazzi e questi imprenditori paghino in nero. Non mi vergogno di quello che dico, ma in uno Stato in cui un sistema semplice, comodo come quello dei voucher lo abolisce perché la CGL vuole tutti i lavoratori indipendenti a tempo indeterminato, meglio i voucher. Questi cazzo di sindacalisti che usavano i voucher e che non sanno cosa vuol dire a 18 anni lavorare perché pensano che a 18 anni deve avere il contratto fisso in un'azienda fissa, cosa che non esiste più da 40 anni, perché ci raccontano questa balla, hanno abolito i voucher. Sapete quanti libretti, secondo il Sole 24 ore, hanno fatto di famiglia? 10.009! Sapete quanti erano i voucher venduti nel 2016? 134 milioni e uno dice tutti quanti sfruttamenti e oggi invece in nero come lo chiamate? Va bene? Oggi come lo chiamiamo? Per fortuna che la demagogia sindacale non smetterà mai. Travaglio spiega a Fazio quali sono le domande che avrebbe dovuto fare contro Berlusconi, ah dovresti dovuto chiedere questo, 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 a parte il fatto che fare le domande il giorno dopo a Berlusconi seduti sulla propria schivania è più facile che farlo in televisione, perché ve lo dico, la televisione vuol dire la diretta, la non diretta, stare lì, la girazione, il fatto che tu hai inviato una persona, le condizioni che quella persona ti pone per venire ospite da te, sì, le condizioni che pone e allora a Travaglio dico, scusami Travaglio che fai tanto il fenomeno e dici cosa avrebbe dovuto fare Fazio, ma tu e Santoro cosa avete fatto quando avete preso Berlusconi anni fa, quando stava al 12-13%, stava per morire da un punto di vista politico e invece voi gli avete dato una specie di poltrona e lo avete innalzato come un grande statista, che domande gli avete fatto, posto che l'unica cosa che mi ricordo è che ha spazzolato quella sedia di Travaglio e ha fatto sì che la sua campagna elettorale diventasse un successo, e lì le famose regole di ingaggio di cui parlò pure Santoro, cioè le domande, i confini delle domande che si potevano o non si potevano fare, voi non le avete rispettate, quindi se lo fa Fazio è un maiale, se lo fate voi invece va bene perché siete voi, in realtà quel successo televisivo nacque da quella spolverata di Berlusconi che Fazio non è riuscito a farsi fare e che forse oggi brucia molto a Travaglio. Di Vella, molto bello, Vincenzo Di Vella oggi ci spiega la stupidata della pasta made in Italy, è un po' complicato da spiegarlo in televisione, direi in rassegna stampa, abbiamo fatto già 10 minuti che è anche un po' troppo, vi do appuntamento questa sera, questa sera Giorgio dice la 7 ieri ha sparato a zero su Berlusconi, me lo dicono in tanti, ieri è stato una specie di plotone di esecuzione nei confronti di Berlusconi, questa sera a Matrix non ci saranno plotoni di esecuzione come non ci sono nei confronti di nessuno e vi do un appuntamento quindi prima alla radio e poi a Matrix, ciao!